Cari amici, signore e signore benvenuti, sono molto contenta dopo tanto tempo di ripresentare una serata con la Cronosarte che ringrazio e poi ho questo piacere e questo onore di pergervi nuovamente il benvenuto e di moderare questo momento alto di arte e cultura. Andiamo un attimino anche a ringraziare lo straordinario team di Cronosarte, siamo qui per l'inaugurazione della collettiva di arte Under the Sea. Un particolare benvenuto lo diamo anche a chi espone, a chi è venuto fuori dai vari comuni ed espone anche il liceo artistico Mattia Preti-Frangipane, la classe quarta è indirizzo arti figurative grafico-pittoriche. Insomma una serata davvero interessante, ricca di spunti, artistica, culturale, organizzata con il patrocinio del comune di Melito-Portosalvo che diciamo appunto va veramente elogiato perché promuove queste iniziative per la sua disponibilità. Ce ne vorrebbero a mio avviso sempre di più di queste iniziative. Mi piace anche condividere con voi il fatto che ci troviamo in un edificio che è l'ex mercato coperto che è un edificio costituito nel 1936 sotto il fascismo, quindi uno di quegli edifici che servivano per ostentare la cultura fascista e propagandare ed era un edificio in effetti geometrico, vuoto, gelido e invece la cosa bella è il contrasto e che invece adesso viene riutilizzato come luogo per promuovere la cultura e quindi le arti. Questa è una cosa secondo me molto bella da sottolineare. Quindi un particolare pensiero personale, questo è un pensiero personale, a parte che conosco tutti i membri della Cronosarte perché abbiamo fatto dei percorsi insieme oppure per amicizia e quindi comunque già emozionante questo. Però io la Cronosarte l'ho conosciuta tramite mio cugino che è l'artista architetto Antonino Scaramazzino che è il padre fondatore e l'ideatore di Cronosarte. Quindi è stato lui che mi ha invitato, voglio condividere con voi questo ricordo, che mi ha invitato le prime volte a venire alle varie mostre che facevate in giro. Quindi comunque lui purtroppo è morto prematuramente nel 2014. La sua arte era una commistione tra il classico e il surrealismo, ma la cosa importante è che lui valorizzava anche a suo modo il luogo. A livello culturale i luoghi spesso c'erano scorci dell'area britannica, pente d'atti, che sono famosi sui quadri. Andiamo un attimino avanti. La mostra accomete nel mare, ora andiamo un attimino a vedere cosa significa. Intanto il mare attraverso le sue profondità misteriose, pericolose, che nascondono la sua enorme vastità e la sua forza, ha sempre affascinato tutti, gli artisti, i poeti, fino dall'antica Grecia, infatti il nostro mare, si può anche sottolineare comunque che noi siamo proprio nella culla della cultura e della civiltà. Mi piace anche sottolineare alcuni termini che poi torneranno nel corso della serata, che vanno a sottolineare il concetto del mare. Il mare è anche definito in Grecia, in greco viene definito palassa, e palassa era la personificazione mitologica del mare ed era femminile. Questo secondo me è molto anche importante sottolineare. era la personificazione divina e femminile del mare. E se stessa secondava il mare, dominava il mare. Il mare inoltre è quello che ricopre gran parte della superficie terrestre. Perché faccio questo preambolo? Perché nel corso della serata noi toccheremo tanti temi che vanno dall'arte, alla letteratura, alla cultura, ma parleremo anche dei problemi climatici, quindi andremo anche a toccare un attimino la tematica dell'uso che noi facciamo delle acque e del mare. E tutti questi temi poi, in qualche modo, gli artisti sono stati sempre interpreti in tutti i tempi delle cose che noi viviamo, quindi attraverso i loro quadri. Ecco, ora andiamo velocemente avanti, quindi siamo qua appunto con gli artisti che ci mostreranno lo splendore e il fascino del mare, come possiamo vedere poi chi non l'ha già visto nell'installazione che c'è intorno a noi. E quindi vi finisco questa prima introduzione con una frase di William James, che dice, siamo come isole del mare, separati in superficie ma collegati nel profondo, che non so se è proprio il concetto di Under the Sea. Adesso voglio introdurre invece la persona che andrà a parlare dopo di me. Ah no, giusto, prima, sì, ok, perfetto, sì, prima della Presidente della Cronosta andiamo subito, facciamo intervenire il Sindaco della Città di Merito, Porto Salvo, appunto il Sindaco Salvatore Maduri e gli diamo la parola. Sì, grazie, grazie, benvenuti a nome di tutta l'amministrazione a questa presentazione che non è la prima come manifestazione, per questo io vi ringrazio e vi ringrazio veramente di cuore per quello che state facendo, ringrazio non solo il Presidente ma tutti i componenti dell'associazione e colgo l'occasione di ringraziare anche tutte le altre associazioni per quello che stanno facendo sul medito, sono tante le associazioni che stanno facendo veramente un lavoro prezioso, perché la dobbiamo smettere di parlare sempre in negativo della nostra medito, non c'è giorno in cui non c'è qualcosa di negativo che veicola sui social, tanto per dirne una, vi chiedo perdono se lo faccio, quella di stamattina, le luci sul lungomare, c'è qualcuno che si sta divertendo per l'ennesima volta a rompere il lucchetto e a meno i polari, l'orologio e noi dobbiamo rincorrere queste stupidità, vi chiedo perdono se la dico così nuda e cruda, ma ce ne stanno tante di queste, dobbiamo crescere e si può crescere soltanto attraverso la cultura, attraverso l'arte, attraverso i tanti giovani che si impegnano sacrificando la propria vita, i propri momenti liberi, ce ne stanno tanti giovani che devono essere valorizzati, io non ho come ripagarvi se non dicendovi con tutto il cuore, grazie grazie per quello che fate, non vi sto a tediare, io vi chiedo perdono se vado via, purtroppo ci sono una serie di impegni anche ai familiari che sto trascurando, ma lo faccio ben volentieri quando ci sono questi momenti. Non posso aggiungere altro perché qualsiasi cosa andrei a dire non sarebbe sufficiente per ringraziarvi, quindi vi invito a continuare così, non bisogna ringraziare il Comune, il Comune non ha fatto niente se non semplicemente fare il patrocinio, per qualcuno è molto, per noi è nulla, il mercato coperto, la struttura del via del Fortino sono state concepite per essere vissute e noi abbiamo fatto qualche piccola modifica banale, la sala, il Fortino, il campo sportivo, tutto quello che abbiamo è a totale disposizione di vostra e non possiamo dirvi altro che grazie per quello che fate, quindi le porte del Comune sono aperte, è veramente incomiabile. L'ultimo grazie, così io recupererò quello che perdo, lo dico a Bruno Taverna con la sua televisione che è quasi sempre presente, dico quasi sempre così, lo stimolo magari a essere presente quelle poche volte che manca, perché quello che oggi noi apprezziamo tramite la televisione si riesce a farlo apprezzare anche a chi per vari motivi non è presente. Parliamo di una domenica di fine giugno, quando la gente magari preferisce stare al mare e magari uscire un attimino più tardi. Non mi perdonate se vi ringrazio e abbraccio il Presidente simbolicamente per quello che fa e vale per tutti. Grazie. Bene, adesso ringraziamo ancora il Sindaco anche per le sue parole e andiamo a presentare la dottoressa Carmela Rosa Mafrica, il Presidente di Cronosarte. È giusto anche spendere due parole, anche se lei non vorrebbe mettersi in mostra, però è giusto che anche gli altri sappiano chi è il personaggio o anche l'artista che fa quei quadri. È importante conoscerlo e conoscere anche la sua formazione. Quindi la Presidente di Cronos Carmela Rosa Mafrica negli anni ha partecipato a numerose collettive d'arte, rassegna d'arte contemporanee sia a Roma, a Melito in varie città d'Italia. Ha ricevuto diversi premi, ha fatto diverse mostre d'arte e d'artigianato, esposizioni, rassegne ed è stata membra di giuria anche in diverse manifestazioni ed estemporanee d'arte. È socia dell'associazione Cumelka, ha partecipato con l'associazione anche a diverse manifestazioni in Grecia e le sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private in Italia e all'estero. Si è occupata anche di illustrazioni di libri e attualmente ha partecipato a diverse collettive d'arte in diverse città d'Italia e all'estero, Firenze, Strasburgo e Bratislava. Dal 2011 è presidente dell'associazione culturale Cronos Art e la passionaria della Cronos. Si è dedicata comunque, ha organizzato anche altre diverse collettive d'arte e collabora con diverse associazioni del territorio. In più un'altra nota è anche che ha ricevuto anche dei premi di poesia, quindi è un'artista a tutto tondo. Detto questo passiamo la parola alla Carmela Rosamafrico. Buonasera, buonasera a tutti. Porgo i saluti da parte dell'associazione Cronos. Ormai ci conoscete, sapete che da diversi anni lavoriamo sul territorio per promuoverlo, valorizzarlo e anche per una nostra necessità, siamo artisti, abbiamo bisogno di comunicare con le persone attraverso le nostre opere. Chi ha visitato le nostre belle collettive precedenti ha potuto godere di arte a tema libero. Questa volta invece abbiamo pensato di proporre un argomento. la mostra dal titolo Under the Sea, scusatemi la pronuncia, vuole essere un omaggio a Rione Marina del nostro paese, un quartiere storico abitato da gente laboriosa che tanto ha contribuito all'economia locale. Un quartiere amato da tutti i melitesi, intriso di fascino, di poesia, di leggende, di fatica e di sudore. Ed io aggiungo pure, intriso di tanta fede, visto che i nostri pescatori sono devoti portatori di vara di nostra signora Maria Santissima di Portosalvo. il mare pure. Il mare attraverso le sue profondità, come diceva la nostra amatissima giornalista Rosalia Salvatore, queste profondità misteriose, i pericoli che nasconde e la sua enorme vastità e la sua grande forza ci hanno sempre affascinato. E d'altro canto, e questo io lo penso veramente, noi che viviamo con i piedi immersi nelle acque marine, possediamo un po' di esso nel nostro DNA, diciamocelo. Almeno a me succede che quando sono lontana ne sento la nostalgia. Più di tanto non riesco a stare lontana dal mio mare. Poi portiamo con noi, ovunque andiamo, il richiamo irresistibile del suo canto. Ed abbiamo bisogno di quell'ampio respiro che è solo gli spazi aperti e l'enorme vastità del mare possiedono. Dunque abbiamo creato uno spazio espositivo molto interessante che accoglie, oltre alle opere degli artisti di Kronos, anche artisti di rilievo che provengono da tutta l'area metropolitana. Inoltre abbiamo accolto anche i ripinti degli alunni del liceo artistico di Reggio Calabria e l'installazione che potete ammirare lungo il corridoio, che porta il nome della nostra, della mostra, è stata realizzata, curata, ideata, progettata, e ne sono orgogliosa, dagli artisti di Kronos Arte. Quindi questa mostra, che è ogni stagione estiva, è un ritorno al mare, un ritorno ciclico che ci fa imbarcare nella coscienza rigenerante della propria origine, non solo in quanto paradigma dell'esistenza, ma anche in quanto a civiltà e cultura. Siamo rimasti a picco su questi scogli della Marina di Merito, insieme a poche famiglie, che come si racconta dalle coste della Sicilia, sono sbarcati su questa estrema parte della penisola, portando con sé l'eco di culture millenarie, e che rimangono oggi scolpite dal sole e dal silenzio del mare come figure epiche che non si lasciano contaminare dal resto del mondo. Il lavoro di questa mostra è un vero incipit smisurato di questa storia, in cui ognuno può riprendere la propria navigazione. attraversazione. Può essere marinaio, può diventare un marinaio e attraversare il proprio oltremare, attraverso un oceano di reti spiegate, non funziona, che non raccontano il sudore e la fatica, ma il fato, il destino di ogni marinaio. Potete attraversare abissi omirici, popolati di favole e creature fuori scala, o mondi calibrati in bianco e nero, che risuonano come bighe piratesche, o specchiarsi in acque benedette, che ancorano la terra ferma ad una bellezza struggente, atroce. risalire tra le tracce di risacche, mostri marini e realtà ribaltate, o tra avventure omeriche e riflessioni spirituali. Insomma, un mare rapsodico, che accompagnato dal canto abissale delle balene, è capace di incantare e cantare la nostra storia, alla quale abbiamo voluto restituire l'orgoglio delle sue leggende. Non mi dilungo, chiedo con i nostri ringraziamenti di tutti, a quanti hanno collaborato con Cronos, un ringraziamento particolare alla dottoressa Crea, vice sindaco di merito Portosalvo, la quale c'è a seconda sempre, a seconda sempre le nostre follie, con grande sensibilità verso l'arte e gli artisti. Un grazie al sindaco, alla sua preziosa presenza, a tutta l'amministrazione comunale, per averci concesso il patrocinio e anche i locali. Grazie a Peppino Neri, il pescatore che ci ha donato i materiali, rete, ancore e quant'altro, per l'installazione. Grazie agli abitanti del rione marino che ci hanno sopportato. Poi volevo ringraziare in modo particolare Santino Amodeo. Vedete che al di là nel corridoio ci sono delle proiezioni che sono state tratti dal libro di merito Portosalvo, persone e ambienti, di Santino Amodeo, che è un eccellente fotografo, un eccellente amico pure, un narratore stancabile delle nostre cose, delle nostre tradizioni, dei nostri luoghi, dei nostri paesi. Un grazie grazie ai relatori, al professore Giuliano Zucco, al dottore Arturo Rocca, alla professoressa Irene Siti Bondo e al professor Barbera, alla giornalista Rosalia Salvatore, grazie al poeta Antonio Trichilo. Ed infine, grazie a Bruno Taverna, Bruno ti ringrazio tanto perché ci rendi visibili. grazie a tutti. Ed infine, ma non certo per importanza, ecco, il mio personale grazie, voglio farlo agli artisti tutti di Cronosarte che hanno lavorato sia fisicamente sia intellettualmente e che ho molta professionalità a questo bellissimo viaggio sul mare. Grazie, ragazzi, per i vostri sorrisi, per il vostro amore per l'arte, grazie per tutte le fatiche che avete speso, per le difficoltà che avete affrontato, grazie per aver assecondato ogni mia piccola richiesta e ogni mia piccola follia. Vi ringrazio, vi amo tanto. Grazie a tutti. Grazie ancora al presidente di Cronos, la dottoressa Carmela Mafrica. E adesso, ed è stata anche bella, devo dire, la parentesi poetica, veramente, sono affermativa, perdonate la mia emozione, non mi sono mai abituata, nonostante tutto ho fatto tante cose, veramente, non mi sono mai abituata e conservo sempre, mio malgrado, questa maledetta timidezza. Anzi, è bello perché trasmette emozioni vere e reali e di queste ce n'è sempre bisogno. Detto questo, poi l'arte e la poesia sono proprio un'espressione del sé, quindi sono molto vicine. Andiamo adesso a presentare il dottore Arturo, no, prima c'è il professore Giuliano Zucco. Lui è un artista, è storico dell'arte, svolge la sua attività artistica a Siderno. Dopo la maturità classica frequente a Firenze e poi a Roma la facoltà di architettura, e dopo un interformativo nella città di Firenze, Roma, Milano e Venezia, durante il quale matura ed affine il suo talento artistico, ottenendo unanimi consensi di critiche e di pubblico, gli viene conferita nel 72 la cattedra di discipline pittoriche presso il liceo artistico statale di Siderno, dove attualmente insegna. Anche se di estrazione culturale e umanistica, la sua forte vocazione artistica lo porta a frequenti contatti con molti esponenti dell'arte contemporanea, partecipando attivamente a numerose mostre collettive estemporanee e tenendole personali anche in varie città italiane. Numerosi premi ottenuti e gli ampi riconoscimenti, che continuamente riscuote da parte della critica specializzata, lo collocano tra i più autorevoli ed illustri operatori nelle arti visive. Molte sue opere fanno parte di collizioni pubbliche e private in Francia, Canada, negli Stati Uniti, in Austria, in Svizzera, in Australia e anche in Germania. Al professore Giuliano Zucco vorrei dare qualche input, vorrei movimentare un pochino questo tavolo dei relatori, vi do qualche input, poi qualche domanda, se vi fa piacere rispondere. Intanto dico, vabbè, senza l'acqua, senza il mare, l'arte non sarebbe stata la stessa, non solo in senso estetico, ma anche per i messaggi che veicola. Magari ci può dire qualcosa al riguardo. Poi l'altro input invece è questo. Il professore Settis, che è un archeologo, anche lui critico storico dell'arte, ha fatto un libro in cui dice il mondo salverà la bellezza sulla scia di Dostoevsky e di altri autori. Ora, ecco, io rivolgo a tutti i relatori a questo punto, tutti coloro che interverranno a questa domanda più o meno nello stesso modo. Mi piacerebbe sentire come rispondete. È anche interessante sottolineare che questo tema della salvaguardia del patrimonio culturale è un tema che è ritornato anche nell'esame di maturità. C'è stata proprio una traccia che riguardava il patrimonio culturale in cui veniva ricordato anche Settis. Quindi passiamo subito la parola al professore Giuliano Zucco. Posso? Buonasera. A questo magnifico pubblico femminile le nostre Eve, eccole qua, le figlie di Eva, magnifico. Mi è sparita l'emozione che avevo guardandovi le nostre compagne di viaggio magnifiche. e poi gli uomini belli. Senza di loro non si potrebbe andare da nessuna parte. Io questa sera, è vero, ho fatto il nuoto dalla Grecia e sono arrivato qua. Ma sapete perché? perché ho incontrato un piccolo gabbiano che mi ha detto tuffati, tuffiti che ti aspettano a Melito. Melito dico, dov'è Melito? Melito porto salvo e sull'altro versante. A nuoto ho raggiunto, attraversando lo Ionio, Melito porto salvo. Io mi chiamo Giuliano, Giuliano Zucco, sono nato all'Ombra degli Olivi, a Tauria Nova, dall'altra parte. E poi per uno strano gioco del destino travericolettato, è stata la mia volontà, sono ritornato di nuovo in Calabria perché ero fuori. dovevo andare a Johannesburg, pensate, in Sudafrica. Ho scelto Siderno, ho avuto un incarico, ho insegnato per tanti anni e ho imparato anche tante cose con i miei allievi in un liceo artistico di Siderno. E approfitto per fare un complimento a tutti gli autori di queste immagini bellissime dove il colore, la forma, il graffio, tutto entra quasi in modo empatico dentro di noi. complimenti ragazzi, siete più che il futuro, siete la nostra speranza perché spesso ultima idea, dicevano gli antichi, è vero, che sia sempre così. Io questa sera un po' di emozione dentro ce l'ho, guai se non ci fosse, come diceva la nostra Presidente. Presidente, non è mai troppa. L'emozione è la sublimazione culturale dello spirito. Se non ci fosse l'emozione saremmo inanimati, inanimati. L'anima, l'emozione, lo spirito, l'energia, fa parte di un tutt'uno, di un cerchio magnifico che si chiude. L'essere umano, come tutti gli esseri viventi, guai se non avessero questa armonia dentro, l'armonia. Immaginate la Terra, più lontana dal Sole o più vicina al Sole. Dove saresti tu? Da nessuna parte, neanche io. Non ci saremmo. Io spesso scherzando con i miei amici in questi simposi, che poi sono le riunioni dopo cena, si parla, magari con un bel bicchier di vino anche, che, come diceva una vecchia scritta in greco, dice un bicchier di vino ti rende felice come un fringuello in amore, due non più. Un bicchier di vino. Perché serve, nella metafora, un bicchier di vino? Per staccare spesso i piedi dalla Terra. Quanto è possibile farlo, però? Io chiudo spesso alcuni miei interventi con i piedi per Terra, ma guardando in alto. E' un messaggio bellissimo che dovremmo dare sempre a chiunque, a noi stessi e agli altri, con i piedi per Terra, perché noi siamo Terra, umus. Voi sapete da dove vengo io? Io ero in un mollusco bivalve, non so quanti mila metri sotto il mare. Questo me l'ha confidato Darwin in un convegno che abbiamo fatto molto tempo fa. e mi ha detto che poi mi sono evoluto. E da questo mollusco bivalve, piano piano, ramingo, ho cominciato a risalire dagli abissi del mare. Di lui parliamo questa sera, del mare. E sono arrivato, piano piano, tra gli scogli. Mi sono completamente disfatto di quello che era e ho migliorato la mia posizione architettonica del mio corpo. Da mollusco sono diventato piano piano un qualcosa che ora riesce a parlare a voi. Pensate quanti migliaia e migliaia e migliaia di anni fa Io sono nato, anche tu. Se non ci fosse il mare non ci potrebbe essere la vita. Ecco perché il mare è importante. Io volevo farvi partecipi di alcuni pensieri che ho preso a prestito da Cazzimiera Alberti è una, non è italiana, è una grande scrittrice e in un suo pensiero su questo nostro lembo di terra chiamata Calabria. Ecco, permettetemi di parlare dell'anima della Calabria pure che è importante. Nessuno ha voluto o potuto scorgere la individuale bellezza di questa terra non simile ad alcun'altra. Una bellezza che non imita, non ripete, non sceneggia secondo la moda già sfruttata altrove ma ha sempre un suo carattere spontaneo generato dal suo intimo profondamente originale. Quando tu vi transiterai le onde dei suoi due mari i più seducenti del Mediterraneo spruzzando le ruote del tuo treno ti ripeteranno amichevoli conosci la Calabria e se una notte nel tuo rapido passare comprenderai questo appello non esitare butta la valigia alla prima stazione e abbandonati tra le braccia di questa vecchia terra che già liberò oreste dalle orinni dalle erinni. Forse anche tu inseguito come ciascuno di noi da qualche tua propria erinne potrai qui trovare un sito di oblio e di rigenerazione. Il mare. Il mare di Calabria. Perché il mare? Il mare possiede un fascino irresistibile pensateci un fascino che stimolò in tutti i tempi nell'uomo quell'istinto irrequieto che lo spinse a lasciare tutto tutto casa famiglia affetti per imbarcarsi verso orizzonti nuovi sempre più fascinosi e belli. la vastità degli oceani e l'immensità del creato dice anche Burke un altro scrittore intelligente importante e molto emotivo ci dice ci porta a dedurre e comprendere quanto alla grandezza di dimensione riflettete su queste parole la vastità degli oceani e l'immensità del creato ci porta a dedurre e comprendere quanto la grandezza di dimensione è una forte causa del sublime la nostra mente quindi nella vastità dell'oceano e l'anima nell'immensità del creato con questi presupposti l'uomo questo uomo sapiens sapiens spinto più dalla curiosità che da quel darwiniano istinto di sopravvivenza si è fatto travolgere dall'ebbrezza dell'avventura e che cosa se non il mare il mare poteva dargli questo tipo di emozioni che cosa se non il mare poteva aiutarlo a nuove conoscenze al di là di quegli orizzonti da sempre nei suoi occhi bene ecco il mare metafora di libertà spazio aperto su cui la nostra anima può leveleggiare verso quella piccola grande itaca che c'è in ognuno di noi il mare va guardato vi riferisco al nostro grande amico il mare va guardato ascoltato il mare va vissuto condiviso come fanno tutte le specie viventi che in esso vi abitano il mare è vita se non ci fosse il mare probabilmente non ci saremmo neanche noi non voglio andare avanti leggere niente perché voglio fare solo qualche altra piccola considerazione su questa su questo evento magnifico cronos cronos il tempo lo spazio il tempo è la nostra vita la vita la nostra vita ecco ciò che non bisogna più chiedere alle coste della Calabria ma esse hanno tanta bellezza che possono puffarne a meno i greci che se ne intendevano tanto vi hanno trovato un'espressione particolare grandiosa con una penetrante seduzione finisco con una ultima considerazione che è giusto che gli affaggia ogni tanto apro le finestre della mia mente per vedere che cosa succede davanti e intorno a me e credetemi non è per niente bello quello che si vede quella che era una spiaggia bianca pulita sabbiosa e con molte pietre le nostre amiche di sempre le mie le tue pietre bene questa spiaggia è diventata lo spettro di se stessa non più luogo di partenza o di arrivo di lunghi viaggi ma luogo di angoscia continua dove l'anima e lo spirito giacciono quasi cadaveri con questa metafora vorrei mettere il dito su questo fenomeno involutivo che stiamo vivendo guardo la mia spiaggia oggi e la vedo affollata dai relitti di un immenso naufragio sono i relitti di una umanità che purtroppo naufraga sempre più senza rendersi conto dei danni che provoca su questa zolla di terra posta alla giusta distanza come dicevo prima dal sole e dove si è verificato questo grande fenomeno che comunemente noi oggi chiamiamo vita la vita la sua sacralità calpestata di continuo in nome di un folle pensiero che da tempo perseguita la mente umana il disagio si sa fa parte da sempre del nostro vivere quotidiano ma se riuscissimo in modo consapevole ad essere medici di noi stessi forse ce la faremo io chiudo con un grido di speranza questa sera vorrei gridare a tutti il suo nome che ho già sentito talassa talassa ossia mare mare unica via di fuga o di approdo verso quell'oltre sempre sognato e mai raggiunto il messaggio di questa mostra è chiaro fra qualche millennio l'uomo abbandonerà la terra o andrà a vivere nell'extrasole pensate Luigi Cavalli Sforza ha fatto uno studio sull'uomo la sua curiosità lo spinge ad andare oltre oltre la terra oltre ogni limite nell'extrasole forse quindi abbandonare la terra o sarà la terra ad abbandonare lui pensiamoci riflettiamo e forse troveremo la chiave che aprirà le porte per un futuro migliore grazie ringraziamo molto il professore Giuliano Zucco per il suo sublime intervento e notevoli spunti di riflessione che veramente sono tantissimi in più ha anche anticipato moltissimo l'intervento che ci sarà dopo del dottore Arturo Rocca allora intanto lo presentiamo il dottore Arturo Rocca è direttore amministrativo scolastico inquiescenza e oggi presidente dell'osservatorio ambientale diritto per la vita che racchiude tante altre associazioni che si occupano di salute e ambiente i rappresentanti delle varie associazioni aderenti lo hanno votato all'unanimità per le sue doti di equilibrio e pragmatismo e per la sua capillare conoscenza del territorio da anni denuncia situazioni di degrado e inquinamento di acque e suolo inoltre è un escursionista conoscitore dei nostri ambienti naturali ed è nel movimento Movimudi da quando si è costituito come già aveva anticipato il professore Giuliano Zucco che gli ha lanciato anche qualche riflessione dice il mare va guardato vissuto e condiviso il mare è vita e se non ci fosse il mare non esisteremmo e anche alla fine le lancia qualche altro l'uomo potrebbe andare a vivere addirittura nell'extrasole quindi un po' questa riflessione qua un po' io anche veramente avevo preparato qualche volevo sapere ecco da lei sempre sulla scia della bellezza se salverà il mondo ma la bellezza salverà il mare e detto questo le passo la parola grazie buonasera io preferisco solvolare i suoi saluti e i suoi ringraziamenti perché sono stati già fatti l'unica cosa che dico è che parlare dopo due interventi così qualificati che ci hanno fatto salire molto in alto per me è una grande difficoltà abbassare il livello e farvi tornare con i piedi per terra perché ci hanno fatto sognare tu sei già grande così come appare antropologicamente perché mi chiamai Arturo sei un nome l'unica e non è stato padrone grazie io preferisco rispondere prima alla domanda che ha fatto la dottoressa la bellezza salverà il mondo e ne sono sicuro e quindi salverà anche il mare perché ricordatevi che tutti noi come individui ma anche come corpo sociale abbiamo in noi tante cose alcune belle alcune brutte ci sono periodi storici in cui prevalgono quelle brutte e ci sembra che non finiscano mai però la storia ci ha dimostrato invece che il bene continua sempre a prevalere e in questo in questo senso io mi sento di dire che noi vediamo sempre sotto la sotto la genere c'è sempre un abbrace che ci dà la possibilità di riaccendere il fuoco quindi sicuramente è un augurio e certo ci vuole anche la nostra costanza e la nostra intelligenza per venirne fuori allora siccome quando io parlo di ambiente rischio di perdermi nei meandri di tutto ciò che è allora ho pensato di fare un intervento breve e di punteggiare alcune cose riguardo all'ambiente in generale ma anche del mare allora noi sappiamo che nel 2018 nei 33 paesi membri dell'agenzia europea dell'ambiente sono stati generati 481 kg di rifiuti solidi urbani per persona da ogni parte viene ripetuto che i rifiuti sono una risorsa chiediamoci però per chi e soprattutto quali rifiuti in questa sede ci occupiamo principalmente della plastica che è quella che crea maggiori problemi nell'ambiente naturalmente a parte quelli derivanti dalle scorie radioattive di cui non parleremo secondo noi l'ambiente scusate premetto una cosa la dottoressa mi ha presentato come presidente dell'osservatorio ambientale diritto per la vita ed è giusto che io vi dica una cosa lei ha detto noi non associamo persone associamo altre associazioni e utilizziamo queste associazioni come fossero dei sensori spassi sul territorio per cui arrivano in continuazione delle segnalazioni a cui noi poi diamo corso con con esposti con denunce con articoli di giornali e e quant'altro e a proposito di mare volevo dirvi che oggi io sono sceso al mare intorno a mezzogiorno e c'era una schiuma oleosa per cui ho subito preso due campioni a 100 metri di distanza e li ho portati in laboratorio perché l'ARPACAL ci ha detto che quella schiuma gialla che abbiamo visto e che ha campeggiato nel nostro mare per diversi giorni era polline di pino e noi ci crediamo anche perché non credo che devessero solo che oggi questa schiuma era una schiuma piuttosto oleosa e puzzolente per cui ho pensato di fare questa cosa nel giro di una settimana dovremmo avere i risultati ecco anche questo come osservatorio facciamo e come osservatorio non abbiamo contributi pubblici noi ci leggiamo sulle quote associative che pagano le altre associazioni e con le erogazioni liberali che possono fare le persone sul nostro noi abbiamo una pagina facebook dove c'è un IBAN dove si possono versare dei fondi oppure quando facciamo delle pubbliche manifestazioni facciamo delle raccolte di fondi per cui che sono naturalmente rendi contati allora torniamo all'ambiente l'ambiente è un corpo da disintossicare la plastica agita sul tessuto sociale come alcune droghe si insinuano in maniera subito negli individui l'euforia dei mondi che ci ha aperto la plastica ora lascia il degrado e l'assoefazione proprio come una droga pesante sembra che non se ne possa fare a meno e che intervenga una sorta di crisi di astinenza ma la droga plastica ci sta avvelenando e conducendo ad un'ecatombe di dimensione planetaria negli anni 60 i nostri paesi interni sono stati invasi dai commercianti che barattavano tavoli e mobiletti in truciolato rivestiti in formica portandosi via tavoli e credenze un po' malandati ma in legno massiccio le nostre massaie col tempo si accorsero che questi nuovi mobili una volta che si guastava bisognava buttarli via perché non si potevano accomodare mentre quelli che loro avevano barattato erano mobili che potevano essere aggiustati e oltretutto avevano anche una certa valenza artistica perché i nostri artigiani avevano lavoravano molto bene in legno allora abbiamo scambiato le nostre suppelletti in materiali nobili con quelli di plastica e cosa più grave abbiamo fatto ricorso a stoviglie usa e getta la praticità dell'uso e la leggerezza del trasporto sono stati barattati con l'igiene e la durata e la non tossicità della ceramica e del vetro la vecchia siringa in vetro che si sterilizzava mediante bollitura è solo un ricordo degli ultrasessantenni ora vi è un mercato di presidi sanitari usa e getta che ci troviamo pericolosamente sulle spiagge e che se smaltiti correttamente hanno un costo ben superiore all'antica pratica della sterilizzazione per bollitura ambientalisti rompiscatole e nemici del progresso questo siamo stati fino a ieri oggi il vento è cambiato e gli ambientalisti siamo in tutte le piazze non già e non solo per protestare contro scelte scellerate ma per riflettere e far riflettere cercare soluzioni indicare comportamenti virtuosi è superfluo che vi si mostri le immagini dei danni che sta provocando l'uso indiscriminato delle plastiche o che vi si citino le patologie derivanti dall'ingestione delle microplastiche e da respirare i fumi dei depositi dolosamente in fiamme sono sotto gli occhi di tutti e adesso che fare cominciamo con una cura disintossicante fatta di piccoli gesti e a cominciare da riflettare il caffè e l'acqua nel bicchiere di carta evitando i locali che offrono tale servizio fare la spesa con le borse riutilizzabili e resistenti rifiutando quell'offerta 8-12 centesimi alle casse per i pranzi domenicali e per le feste comandate apparecchiamo con i servizi che da anni non tiriamo fuori dalle credenze per i picnic dotiamoci di stoviglie durevoli e riutilizzabili torniamo all'uso delle bottiglie in vetro per l'acqua tinta alle fontane pubbliche questa è la mia borraccia guardate sembra una cosa epocale tornare alla bottiglia di vetro invece vi posso garantire che è una scelta che si può fare facilmente noi abbiamo la Spromonte ci dà delle acque eccezionali buonissime eppure le lasciamo perdere e compriamo acque imbottigliate che vengono da migliaia di chilometri di distanza e che hanno viaggiato sotto il sole al freddo al caldo alla luce ma notate bene che se voi lasciate una bottiglia in vetro al sole diventerà dopo una settimana vedrete che dentro diventerà verdina perché c'è l'azione se lasciate una bottiglia di plastica anche un mese alla luce non succederà niente perché la vedrete sempre limpida allora un motivo ci deve essere se sul vetro che è il materiale migliore per conservare i liquidi e non solo i liquidi il sole e la luce fanno questo effetto e non lo fanno sulla plastica e che vengono utilizzate delle plastiche che hanno una capacità filtrante ma vengono anche trattate in maniera tale che non possono essere che non si possono deteriorare per cui e poi soprattutto una cosa mi preme dire guardate che le acque pubbliche quelle che arrivano nel rubinetto di casa nonostante noi possiamo non avere fiducia nei vari enti sono molto più controllate delle acque imbottigliate in plastica perché le acque imbottigliate in plastica hanno i gestori hanno l'obbligo di fare le analisi una volta all'anno a carico loro nei laboratori che dicono loro mentre le acque pubbliche normalmente vengono controllate dal gestore dal comune e dall'azienda sanitaria allora è vero che molto spesso uno di questi tre non le fa le analisi o le fa dopo diciamo dopo diverso tempo però se uno dei tre trova una criticità nell'acqua i sindaci sono obbligati a fare delle ordinanze di non potabilità e a quel punto bisogna ricorrere a quelle comunque guardate noi come osservatorio sulla Locride abbiamo analizzato le acque sia dal punto di vista della radioattività dei metalli pesanti e non ci sono criticità di nessun tipo di nessun tipo e per fare questo abbiamo mandato i campioni in un laboratorio straniero in maniera tale che nessuno potesse manipolarli quindi da questo punto di vista possiamo stare tranquilli vi stavo dicendo la plastica cede all'acqua e a tutti i liquidi che contiene particelle dannosissime al nostro organismo in Italia si vendono ogni anno 9 miliardi di bottiglie di acqua imbottigliate in plastica e di queste solo un terzo finisce nella filiera del riciclo cioè vuol dire che 6 miliardi di bottiglie vanno a finire o in discarica o nell'ambiente e poi ce le ritroviamo sempre in giro da tutte le parti e finiscono principalmente in mare e sapete che le correnti marine hanno creato nell'oceano pacifico nell'oceano atlantico un'isola che è grande quanto un continente e un'altra isola si sta formando adesso nell'oceano pacifico e il mare mediterraneo è il mare più inquinato del mondo quindi tenete conto di questo le immagini di quello che sono diventati i nostri mari intasati dalla plastica ed altri rifiuti è impressionante e terribili sono i danni che la plastica provoca alla catena alimentare dal primo gennaio 2018 la Cina ha bloccato l'importazione della plastica e temiamo che questo porterà ad aggravare il fenomeno dell'abbandono nell'ambiente quindi dobbiamo tenere alta la guardia evitiamo di comportarci come le massaie che mettono la polvere sotto il tappeto il mare nasconde e ciò che non si vede non esiste questo generalmente è quello che si pensa e il buco nero creato dall'uso della plastica somiglia a quello rivelato da Einstein per gli abissi dell'universo si negò per molto tempo il buco nero di Einstein e si nega ancora adesso quello provocato dalla plastica essa ci toglie il futuro offrendoci solo una soddisfazione passeggera il facile utilizzo chiedete qui a melito a chi è sempre vissuto di pesca cosa tira su con le reti al posto dei pesci plastica tanta e pesce poco facciamo lo sforzo di immaginare un futuro senza plastica e avremo assicurato un futuro alle nostre generazioni alle future generazioni di vegetali animali ed esseri umani con la giusta percentuale di biodiversità e allora muoviamoci anzi movimundi grazie davvero dottore Rocco è stato molto interessante il suo intervento salutiamo anche l'associazione movimundi nella persona di Liliana Ielasi che è presente qua con noi dopodiché faccio una piccola pausa perché un poeta un piccolo momento poetico c'è in sala un poeta locrese Antonio Trichilo Trichilo mi dicono Trichilo che ha scritto diverse poesie anche nominato in diverse antologie poetiche ha ricevuto diversi premi letterari che ci ha omaggiato di una sua poesia a tema appunto sul mare quindi io la leggerò per lui almeno che non abbia cambiato idea e voglia leggerla lui no ok la leggerò io si intitola Acqua Marina Acqua salata accarezzi la terra beata con mano di fata tu dormi tranquilla ti svegli e ti muovi come un'anguilla risucchiando le anime nel tuo fondale d'argilla tu sei il mare di tutti pieno di frutti frutti di gioie e di lutti di te non mi fido anche se mi accogli come in un nido io sempre diffido perché se il mare è io che non so nuotare ho paura di annegare sempre ti ammiro come una gioconda prego che tu sia sempre feconda che rispetti la terra che ti circonda e chi cavalca la tua onda ringraziamo ancora il poeta Antonio Trichilo adesso andiamo avanti velocemente adesso c'è un altro intervento molto interessante ed è quello dell'artista Irene Sitisbondi docente anche del liceo artistico Maria Mattia Preti Frangipane mi corregga se sbaglio artista eclettica esprime la sua arte con una ricerca che va dalla pittura figurativa alla sperimentazione di materiali poveri per arrivare fino alla moda e al costume teatrale la sua pittura è rappresentata da immagini di donne poi potrete vedere nella ci sono i suoi quadri che io li ho visti prima sono molto interessanti e mi richiamano proprio l'idea del mare Talas questa divinità al femminile la sua pittura è rappresentata dicevamo da immagini di donne in tutta la loro entità e complessità spirituale è l'attimo espressivo dei volti che rivela il momento lo spazio e il tempo della condizione dell'essere umano e del suo mondo attraverso la raffigurazione di corpi di volti di sguardi di sorrisi e li vedrete poi nelle sue opere tracciati in maniera quasi fotografica da una pittura figurativa e nel contempo narrativa in cui emergono gli atteggiamenti di un vissuto e di una condizione esistenziale dove il genere femminile assume la massima pregnanza e dove la stessa artista lascia una traccia di sé nata a Reggio Calabria diplomata presso il liceo artistico di Reggio Calabria di cui oggi dicevamo è docente di discipline pittoriche e successivamente diplomata presso l'Accademia di Belle Arti sempre di Reggio Calabria in pittura e poi in scenografia ha esposto sin dal 1976 nell'ambito di diverse mostre collettive e personali in Abruzzo Milano Roma Messina Locri è stata recensita da Guido Malvaso Villari Franco Greco Mimmo Giordano ci sono diversi critici si sono interessati a lei anche diverse testate giornalistiche che vanno da arte e cultura a Orizzonti Reggini al giornale di Calabria la rinascita della Calabria tra le sue più importanti mostre personali si rammentano quelle presso la Galleria Modigliani di Reggio Calabria il palazzo del comune di Locri della provincia di Reggio Calabria ha partecipato a numerose collettive d'arte a diversi festival abbiamo detto anche tra varie sfilate esposizioni di costumi di scena anche a lei chiediamo la stessa domanda che abbiamo rivolgiamo la stessa domanda che abbiamo fatto agli altri insomma i simi importanti ospiti che ci hanno appunto in questa serata ci hanno regalato tanti spunti di riflessione le chiediamo appunto se se si può salvare il mondo la bellezza e salvare anche il mare con la bellezza e con l'arte e ci diamo subito la parola all'artista la professoressa Irene Cities Bond City Bondi Buonasera a tutti sono veramente felice di trovarmi qui questa location veramente ammirevole per l'installazione che si è creata stasera sono in veste di professoressa che tra virgolette a me mi suona molto alto preferisco presentarmi così con Irene City Bondo che è il mio nome e il cognome e con una parte di me stessa che mi ha accompagnato negli anni sin dall'adolescenza cioè operare divertirmi con l'arte l'arte salva il mondo certo che salva il mondo perché perché entra dentro di noi quando si sente veramente con tanta sensibilità come è successo a me perché i momenti brutti li abbiamo tutti e li superiamo quando stiamo con noi stessi e l'arte ci concilia si sta con con il proprio essere perché ti rinchiudi dentro di te incominci a pensare incominci a creare e creare cose belle perché l'arte si rivolge alle cose belle non alle cose brutte ecco perché io sempre stimolo i ragazzi a questo forma mentis a pensare veramente che l'arte ci può salvare il mondo ce lo può salvare e con l'arte noi ci incanaliamo in un discorso abbastanza ampio eterogeneo che abbraccia sia la cultura così che noi leggiamo sui libri sia la cultura di strada cioè la nostra strada qual è? quella sempre di prendere 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 cioè inglobare dentro noi stessi una nostra cultura e arricchirci e allora così il mondo diventa migliore se no è impossibile è impossibile aprire la televisione e sentire sempre notizie che ti deprimono ti fanno sentire niente ti fanno sentire rabbioso dentro di te e vai poi a scontrarti con il mondo che ti circonda bene con questa premessa io poi mi riferisco a una ricerca che ho fatto però si sa l'emozione è quella che quando sei qui strappi tutti i fogli che hai preparato e parli così a braccio perché è la cosa più che ti fa sentire di avvicinare al pubblico riferiamoci all'arte l'arte quanti pittori hanno parlato del mare il mare è proprio il soggetto più sentito perché? perché il mare è formato da una superficie e poi dentro c'è tutto il mistero tutto il mistero è dentro il mare noi lo guardiamo quando ci tuffiamo dentro e dobbiamo tuffarci per vedere la bellezza la la situazione che ci affascina che ci affascina che ci affascina non solo i pesci ci sono dentro non solo tutte le rocce non solo i coralli non solo la foiseidonia che qui ce n'è tanta che ci affascina del mare ma quello che ci può ispirare il mare infatti tanti artisti ne hanno fatto come dicevo prima il soggetto principale per esempio mi viene in mente quell'onda di una litografia giapponese che è molto famosa Okusaki Okusai è l'artista che raffigura questa onda gigantesca e queste barche che entrano dentro e allora ammirando questa questa opera noi possiamo dire quanto è immenso il mare e poi collegandoci anche ad altri artisti per esempio Guardando il mare Guardando il mare è un'opera di Hopper Hopper è un'artista che ha raffigurato molto il paesaggio ma ha inserito anche delle figure dentro e quelle figure guardandole attentamente ci raccontano tanto e allora in quest'opera Guardando il mare cioè come sfondo il mare mi dispiace che non c'ho l'immagine come sfondo il mare e due figure che guardano il mare e la raffigurazione ci rimanda ad altra storia ad altra storia all'incomunicabilità che si può creare tra un uomo e una donna e allora questo mare guardandolo fisso ci fa vedere l'orizzonte e poi c'è altri artisti per esempio Gauguin Gauguin ha raffigurato l'onda questa onda sempre che è gigantesca no? ruota su se stessa diventa anche la nostra anima e ce ne sono tanti Turner anche lui ha raffigurato il mare timultuoso un mare aggressivo ecco e questo mare è anche spunto di tanti cantautori abbiamo presente per esempio l'onda di Cocciante sono davanti a questa onda ora ve la leggo un attimo seduto da un'ora qui a guardare questo mare che è che si muove anche dentro me così in tumulto ecco queste quattro queste quattro righe di di testo ci raffigurano proprio il quadro del mare così in tumulto un'onda che va un'altra onda che arriverà le emozioni si rincorrono senza sosta con i pensieri un'onda che viene un'altra onda che va in questo mare che ci appartiene che dolore volersi bene bravissima veramente anche è molto difficile andare a braccio quindi ringraziamo ancora la professoressa Irene Titi Bond e quindi ormai siamo arrivati proprio alla fine si può dire della serata possiamo ringraziare davvero tutti almeno che qualcuno non voglia dire qualcosa o se dal pubblico c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda ai nostri relatori oppure sui temi che abbiamo trattato ok perfetto volete dire qualcosa altrimenti possiamo ringraziare intanto ringraziamo nuovamente il comune di Merito Portosalvo per il patrocinio ringraziamo la Cronosarte ringraziamo i relatori convenuti stasera che veramente ci hanno dato tantissimi spunti di riflessione e adesso non certo ringraziamo l'associazione Cronosarte i ragazzi che hanno fatto un pochino tutto anche il gruppo di Movimundi giusto lo pronunciò coloro che sono venuti a promuovere le loro opere anche da diversi comuni il liceo artistico Mattia Preti Frangipane e dopodiché adesso non ci resta che andare a vedere di persona l'installazione immergerci sentire le emozioni che ci provocano ci provocano queste immagini come ci potrebbero cambiare detto questo ah va bene c'è un altro intervento sì certo prego due secondi due secondi ci avevi chiesto se la bellezza e allora e allora sì 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 l'arte l'arte noi stiamo vivendo respirando arte questa sera vivere l'arte vivere l'arte è importante necessario come respirare una boccata di ossigeno che fa sicuramente bene all'anima e allo spirito oltre che al corpo fisico solo in questi ambiti si può volare alto e guardare le cose da quell'unico punto di vista che spesso ci fa uscire dalle tenebre quotidiane riempiendo di vera luce tutta la nostra vita se concludo se la luce e la bellezza nascono da una sola madre Gea Gea vi ricordate Gea Gea la terra magnifica in Gea c'è tutto 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 la natura Gea è dentro di noi fuori di noi intorno a noi la bellezza magnifica è vero la bellezza la luce la vita non c'è cosa più bella la creatività noi siamo continuamente creatori dentro di noi fuori di noi intorno a noi soltanto guardando operando muovendoci comunicando in empatia con tutto con l'esile filo d'erba col mio gatto pardo che mi aspetta a casa con la lumachina che mi passa davanti con la formichina una dietro l'altra che hanno nel cervello un mondo un mistero posso dirvi un'ultima cosa che io non sapevo sotto il mare il nostro amico ce lo può anche confermare perché ho visto che quanta forza quanta anima ci mette quanto senti determinato è un uomo determinato dovremmo essere un po' tutti come lui determinati perché dobbiamo amare questa terra Gea dobbiamo amarla 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 fino alla fine due secondi vi dico una cosa importante che io non conoscevo fino a tempo fa dentro il mare a una certa profondità c'è una specie di polipo che è maschio e femmina nello stesso tempo annoiva con la testa è vero sentite che è successo che succede che è successo prima succede e succederà ancora finché quella maledetta plastica quell'arsenico quel piombo e tutti i pesticidi non riusciranno a estinguere a distruggere questa magnifica popolazione sotto le acque questo polipo non ha bisogno della femmina perché lui è femmina e maschio e quando mette al mondo quei piccoli le piccole uova poi si schiudono e diventano piccoli polipetti nella in una in un antro sotto il mare una specie di caverna e siccome ci sono i pesci predatori lui per non far predare i suoi tra virgolette figli piccolini si mette a proteggerli a chiudere la porta di questa caverna e ovviamente i nemici predatori gli altri pesci vedendolo arrabbiato con queste branche lunghe non fanno niente scappano se ne vanno però allungandare lui ha bisogno di mangiare ha bisogno di nutrirsi ma non può lasciare incustodito l'antro e sapete cosa fa? comincia a mangiarsi un suo tentacolo e rimane qualche giorno poi non si muove per niente finché non crescono i piccoli si mangia il secondo tentacolo e poi il terzo e poi il quarto io quando il biologo marino diceva questo discorso in televisione e ce lo faceva vedere ero diventato piccolo ero diventato mi ero azzerato pensando che pochi minuti prima avevo sentito dire che un padre ha ucciso un bambino di otto mesi e faceva il paragone con questo polipo che si suicida si mangia da tutto da solo per salvare quei piccoli polipetti vi rendete conto che c'è sotto il mare la religiosità della vita magnifico è un esempio per gli umani grazie 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 ancora veramente questa è stata una serata che ci ha trasformati da cui usciamo veramente trasformati dall'arte abbiamo siamo cresciuti nella nostra consapevolezza grazie a questi interventi e conosciamo meglio il mare lo abbiamo in un certo senso chiuso in una stanza e conosciamo forse anche un pochino di più noi stessi adesso magari andremo a vedere un po' le opere vi invito con calma a visitare la mostra e accogliere le emozioni come abbiamo fatto qui adesso le emozioni proprio vera e reale a contatto con l'arte le emozioni e le sensazioni che ci possono trasmettere queste opere d'arte di questi grandi artisti ringraziamo veramente tutti adesso soprattutto ringraziamo al presidente la dottoressa mafrica me lo deve permettere e le lascio e le lascio la parola grazie tesoro grazie a tutti e buona visione intanto vorremmo cronos vorrebbe omaggiare le nostre relatrici con un piccolo omaggio floreale lui è Matteo il nostro giovane artista vorrei vorrei anche chiamare qua la mia la vicepresidente Maria Maria Carmela Romeo vicepresidente di cronos che tanto ho lavorato tanto si spende per cronos vorrei che sia lei a consegnare i diplomi a tutti i partecipanti grazie Maria grazie ragazzi per quello che avete fatto grazie a tutti Maria Buonasera a tutti, scusate se non ho salutato prima. Sono veramente felice di avervi tutti qui e soprattutto sono felice di tutti questi artisti che hanno partecipato alla mostra che è stata voluta da tutti i soci della nostra associazione. Quindi daremo un attestato di partecipazione ad ogni artista della mostra. Non so se ci siamo tutti, comunque verranno consegnati successivamente, ci premureremo noi di farlo. Tedesco Laura, penso che sia una ragazza del liceo artistico, quindi la dottoressa Siti Bondo se mi dice. Tedesco Laura è una... Sumba Zé, Giorgi, liceo artistico. Riggio Francesco, del liceo artistico c'è qualcuno? Facciamo prima. Ok, quindi andiamo. Postorino Dominic, intanto li nominiamo. Nieva Windy, Morabito Vanessa, Malimaci Graziana, Lombardo Dionisia, Cotroneo Sharon. Sono tutte le ragazze del liceo artistico che magari stasera non sono venute. Barreca Enca. Qui abbiamo Zucco Giuliano, che partecipa anche come artista alla nostra mostra. Grazie mille. Siti Bondo Irene. Ripetiti Teresa. È andata forse da questa. Nicolò Tina. Facciamo una foto, Tina? Sì, c'è. Marrapodi, grazie. La seta al rosario. Ringraziamo l'uomo e l'artista che tanto si prodiga per Cronos. Gemendi Sabrina. Fascist Purio Lorenzo. Arriva il professore. Un grande professore di ceramica a Raku. I suoi pezzi sono distribuiti per tutta la nostra mostra. Anche lui un grande sostenitore di Cronos. Catanoso Luigi. Canale Adele. Grazie. Toscano Giussi. Toscano Giussi, la nostra socia e il nostro grande sorriso. Stelitano Lorenza. Una bravissima artista. Potete ammirare una delle sue più belle opere qua in galleria. Bravissima. Grazie di tutto Lorenza per il tuo lavoro, spesso per l'associazione. La signora Squillagianna. La signora Squillagianna. C'è la nostra amata signora Anna. Una bravissima artista. Autodidatta. Con una grande passione. Che è la pittura. Grazie. Grazie. Grazie Anna. Me lo consegni tu? Grazie. Questa è di Maria Carmela Romeo. Bravissima artista. Istancabile lavoratora. Lavoratrice. Lavoratrice. Bravissima. È il mio braccio destro, devo dire. Se non avessi lei non so come farei davvero. È una magnifica artista e una stupenda persona. Molto generosa. Grazie Maria. Grazie Presidente. Andiamo avanti. Romeo Graziella. La dolcissima, dolcissima Graziella. Anche lei è bravissima. ha lavorato tanto al computer, ha creato le nostre locandine, le nostre brochure, ha lavorato alla proiezione, all'installazione, ha lavorato tantissimo anche lei. Bravissima pure come artista. Grazie Graziella. Graziella sei proprio una grazia, dobbiamo dirlo. Il nostro grandissimo Neri Francesco. Dov'è Neri? Neri sempre che lavora, instancabile. Neri Francesco. Sì, infatti. L'anima di Cronos. Mazzola Giuseppe. Mazzola. Il professore Mazzola non c'è. La nostra grandissima, Mafrica Carmela Rosa. La Presidente. La nostra new entry, Foti Matteo. Grazie, Matteo. Borrutto. Auspichiamo una lunga vita dentro la nostra associazione. Matteo è bravissimo, Matteo è bravissimo, Matteo è bravissimo. Borrutto Maria Carmela. Battaglia Luana. Non è venuta Luana? No. Questi sono sempre i ragazzi del liceo, non ci sono. Ma non abbiamo fatto per questi signori. Per questo signore è bravissimo. Ringrazio tutti voi per essere qui con noi in questo bellissimo evento e vi invitiamo a visitare la mostra e a gustare con noi un piccolo aperitivo che è stato offerto dalle attività commerciali della zona. Un altro momento, piccolino, prima di andarcene, il professore Giuliano Zucco vorrebbe fare una piccola performance artistica in chiusura che dura pochissimo. Due secondi, due secondi. Qualche momentino e poi possiamo andare. Perdonatemi, due secondi e andiamo via. Allora, oggi è domenica, domenica, vero? C'è qualcuno tra di voi che si chiama domenica? Mi pare la professoressa. Può venire un attimino qui, professore? Un secondo. Lei, domenica, oggi abbiamo parlato di Cronos, di Gea, Gea, eccola qua, Gea. Gea. Giovane dentro, di fuori ancora più bella, Gea, la nostra Gea, antica, moderna, futura, magnifica. E, ascoltatemi, io volevo fare da ragazzo l'attore, no. Mi ha detto papà, no. Volevo fare il cantautore, no. Anche se stasera mi veniva voglia di cantare Una rotonda sul mare Ve la ricordate? Quanto ci ha fatto innamorare questa canzone. Ascoltatemi un secondo. Eccola qua, domenica. Gea, Gea, la terra. Bello ed armonico, l'ovale del tuo volto racchiude una vitalità che, dai luminosi occhi, si espande su tutto ciò che intorno a te respira. Guance, tenere e colorate, scivolano come dolci colline in cerca della bocca, che, simile a un'onda glauca, produce suoni di incantate sirene. E, intanto, uno zefiro monello aleggia sui prati fioriti della tua pelle, rubando i profumi e i colori ai petali colorati che da cornice fanno a questo tuo volto di antica Eva. Sempre inseguito, cercato e spesso rubato nel segreto del sogno. Questo, tu sei, traccia evoluta dell'idea primigenia, con dentro l'anima, nel suo eterno divenire. E se l'infinito si può chiamare amore, tu sei l'infinito. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.